Ben trovati da Nico Schiodetto e agli amici di Primo Canale, situazione meteo per la giornata di martedì, sarà la vigilia di un peggioramento che si concretizzerà nel corso di mercoledì ad opera di una perturbazione atlantica con piogge diffuse sulla regione, intanto però situazione tranquilla martedì, ampi rassernamenti, non prevediamo precipitazioni, nel dettaglio imperiese, giornata di baltempo, ampi spazi di cielo sereno dappertutto, una giornata tranquilla ma fredda di notte sulle zone interne, Savonese anche qui, ampi rassernamenti, giornata di baltempo con clima però un po' ventoso, provincia di Genova, tempo assolato anche su tutta la zona di mare, uno sguardo al Tiguglio, giornata di baltempo ma fredda, tenderanno poi dalla serata ad aumentare le nuvole dal mare e poi uno sguardo alla situazione per lo spezzino, poco da segnalare, non ci sono precipitazioni, giornata di bel tempo dappertutto. Tendenza meteo per la giornata di mercoledì, quando in una perturbazione atlantica un sistema perturbato investirà tutta la Liguria, giornata di nuvole, di piogge sparse sulle zone di mare e di venti vivaci. Nevicate da segnalare sull'entroterra Savonese, inizialmente anche a quote basse. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trabi Meteo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!